Gentili telespettatori, buona giornata. Il livello della politica italiana e naturalmente dei politici che compongono, nella politica italiana a tutti i livelli è molto molto basso, bassissimo. A livello proprio che, cambiamo discorso, ci sono cose che si possono dire, cose che non si possono dire, ma andiamo avanti. Viene fatto il decreto lavoro, che viene ribattezzato dalla sinistra decreto precariato proprio quando l'Istat certifica che il lavoro precario scende di meno 15.000 contratti, meno 2,7%, quindi un forte rallentamento dei lavori a tempo determinato, quelli che vengono chiamati precari. Quindi la sinistra va contro il governo quando l'Istat certifica che c'è un crollo dei lavori precari. Dire che sono dei geni assoluti credo sia poco. Difficile riuscire a far meglio di così. Con la Meloni diminuiscono i lavori precari e loro vanno contro la Meloni perché dicono che aumenta il lavoro precario. Diciamo che è assolutamente geniale. Però il punto non è questo. C'è il decreto lavoro ribattezzato decreto precariato un po' dai sempliciotti e viene paragonato da una grillina insomma contestualizzate, stiamo parlando di una grillina. Dice la grillina il lavoro, il decreto lavoro è paragonato al lavoro rende liberi che era la scritta che si trovava sopra un campo di concentramento. Lei si scusa, non volevo offendere. Allora, io sono sicuro che lei non voleva offendere. Il punto è un altro. Il fatto è che vengono mandati in Parlamento delle persone che non volevano offendere. Cioè che quando scrivono qualcosa sui social, solito, sui social, quando scrivono queste cose loro non si rendono conto di quello che stanno facendo. Non è che lo stanno facendo apposta, è una provocazione, lo fanno per fare notizia. Quello sarebbe già reputarli, dice lo stai facendo con malizia, comunque sei un certo tipo di persona che lo fa apposta. Ma in questo caso, come in tanti altri casi, queste persone non lo fanno apposta, sono proprio così. E quindi stiamo parlando di un altro tipo di persone. Non quelle che lo fanno apposta, ma quelle che non si rendono conto di quello che stanno facendo. Mi capite che è un altro tipo di persona. Credo che anche voi conosciate tante di queste persone, io personalmente ne conosco tante, di quelle persone che fanno senza rendersi conto di quello che fanno, delle conseguenze, ma non se ne rendono conto perché non hanno la capacità di comprendere quello che stanno facendo. Oggi gli dicono cosa hai fatto, non volevo offendere, ma domani su un altro argomento lo rifarà perché non si rende conto, non riesce a capire che scrivendo una cosa del genere stai offendendo, possiamo scrivere un libro su quello che stai facendo, soprattutto oggi che c'è il politicamente corretto. Lo avesse detto nel 1981 probabilmente nessuno ci avrebbe fatto caso, ma oggi è un'altra storia. Quindi la chiamano caduta di stile, io non la chiamerei né caduta di stile né errore, ma direi che sono persone che non si rendono conto di quello che fanno. Lei chi è? È l'onorevole, perché sono i titoli che si danno a queste persone, anche se non si rendono conto sono onorevoli, cioè tanto onore, tanto di cappello, noi siamo dei rappresentanti popolari. Poi voi vi chiederete, ma forse rappresentano le persone come lei? Eh sì, eh sì. Diciamo che lei è il rappresentante popolare, ogni onorevole rappresenta un numero di italiani, sono 600 i parlamentari, fate 60 milioni diviso 600 e trovate quanti italiani rappresenta ogni parlamentare. Beh, non rappresenta certo me, forse rappresenterà qualcun altro, no? Quelli che sono come lei, ma non certo rappresenta me. Spero. Quindi lei paragona il decreto lavoro al campo di concentramento. Anche volendo andare ad analizzare il paragone, prendendolo in maniera seria, ma non lo puoi prendere in maniera seria, perché è detto da una persona che non ha compreso quello che ha scritto, anche se poi vuoi prendere questo paragone come serio, capisci che non ha nessuna logica, non ha nessuna logica. Il governo nel decreto lavoro toglie dei paletti alle aziende per assumere persone a tempo determinato. È più facile assumere a tempo determinato, ma attenzione, questa facilità data nell'assumere persone a tempo determinato si contrappone a una tendenza di aumento dei contratti a tempo indeterminato e una diminuzione dei contratti a tempo parziale. Perché oggi il mondo del lavoro va così. Però se l'imprenditore ha bisogno di prendere una persona a tempo determinato, è più facile, se devo prendere un bagnino per tre mesi, sembra quasi impossibile con tutta la burocrazia, invece adesso è più facile. Però le aziende tendono a prendere persone a tempo indeterminato. Oggi il mondo del lavoro è così, ci sono pochi lavoratori, prendo e gli prometto, gli faccio il tempo indeterminato così accetta il lavoro, anche se è pagato poco. Quindi il lavoro a tempo determinato è sempre meno usato. Spiegatemi, dopo questa spiegazione che vi ho fatto, cosa vuol dire paragonare il decreto fatto dal governo a un campo di concentramento. Io mi dico, scusate, grillini, ma chi portate in Parlamento? Ma come fate le selezioni? Ci sono delle selezioni particolari? Quali sono i requisiti? No, no, non mi dite i requisiti perché mi spavento, non voglio sapere i requisiti, per favore. Ma avrete dei requisiti? avete delle linee guida? Cioè, a chi dice la sciocchezza più grande del mondo, allora lo portate in Parlamento, avete bisogno di gente che... ecco, così. Ma attenzione, lei dice questo decreto sembra quasi che si mettano ad accordo per trovare qualcosa che sia legato alla crudeltà mentale. Scrive questa qua. Quando leggo decreto lavoro, lo ribattezzo decreto precariato, mi viene da pensare alla frase scritta sul portone, il lavoro rende liberi. Questo del campo è una crudeltà mentale che spinge... naturalmente... naturalmente dalla lega si mettono le mani nei capelli, anche in Fratelli d'Italia, dicono ma come si può paragonare una roba del genere, sono delle parole inaccettabili. La lega dice chieda scusa e la smetta di dire idiozia. Questa è la risposta esatta. Grazie a tutti e arrivederci a presto.